Musica Ben ritrovati amici di Padre Pio TV. In questa puntata di Spazio Salute ci occuperemo del mieloma multiplo. Per spiegarci che cos'è, quali sono le possibili cause e come si cura, è con noi in studio il primario dell'unità di ematologia di casa sollievo della sofferenza, il dottor Nicola Cascavilla. Benvenuto fra noi, anzi bentornato fra noi perché ci ha onorato la sua presenza anche in passato. Buonasera anche a lei. Allora, dottor Cascavilla, che cos'è il mieloma multiplo? Il mieloma multiplo è una malattia neoplastica del sangue, devo dire una malattia neoplastica biologicamente piuttosto complessa. Si chiama multiplo perché fra le varie alterazioni patologiche determina delle alterazioni ossee polidistrettuali. Cioè colpisce più midollo di varie ossa in pratica. Si, colpisce le ossa più che il mieloma. Colpisce le ossa determinando delle lesioni osteolitiche, dei veri e propri buchi o fratture patologiche. Può colpire più ossa e per questo è detto multiplo, il mieloma multiplo. Esiste una forma anche di mieloma solitario che nasce come singola entità a livello osseo o anche a livello extraosseo e rimane come singola entità. E quello è il mieloma solitario. Quindi colpisce in quel caso un solo osso. Un solo osso o una sola sede extraossea. E quindi quando parliamo di mieloma parliamo di una patologia ossea o del midollo dell'osso? È una malattia del midollo osseo perché nasce nel midollo osseo. Il mieloma multiplo è dovuto ad una proliferazione neoplastica, quindi autonoma ed incontrollata, di plasmacellule nel midollo osseo. Le plasmacellule in questo modo sostituiscono le cellule della normale emopoiesi, le cellule che determinano la formazione delle cellule che noi vediamo nel sangue periferico. Le plasmacellule sono le cellule che derivano dai linfociti biterminari, le cellule adibite alla produzione di anticorpi. Gli anticorpi lei sa che ci difendono dalle infezioni. In questo caso vengono prodotti tanti anticorpi, tutti uguali a se stessi, quindi tutti monoclonali, per questo il mieloma viene detto anche malattia monoclonale, però anticorpi che non servono a nulla, si accumulano nel sangue e danno origine a particolare tossicità a livello dei reni e a livello dei tessuti. Le plasmacellule attraverso delle interazioni poi con le cellule delle ossa come gli osteoclasti possono determinare quelle lesioni osse che lo fanno chiamare multiplo. Perché gli osteoclasti, lo diciamo ai telespettatori, sono quelle cellule che vanno a distruggere il tessuto osseo che poi viene ricostruito da altre cellule che si accamano agli osteoblasti. Quindi in questo equilibrio l'osso si mantiene. Nel mieloma c'è un'attivazione degli osteoclasti e un'inibizione dell'attività osteoblastica, quindi c'è un maggior rimaneggimento osseo. I primi sintomi del mieloma sono soprattutto un'osteopenia, un'osteoporosi diffusa. Quest'oporosi poi può determinare improvvisamente delle fratture spontanee e patologiche che possono colpire varie osse lunghe, ma anche le vertebre, i collassi vertebrali, per cui spesso i pazienti vengono ricoverati d'urgenza per una paralisi improvvisa. Quanto è diffuso il mieloma multiplo? Il mieloma multiplo è una malattia relativamente diffusa. generalmente rappresenta l'1% di tutte le neoplasie solide e il 10% di tutte le neoplasie ematologiche. È molto più frequente nei soggetti anziani, circa il 60% dei casi si manifestano dopo i 65 anni d'età ed è relativamente più frequente negli uomini rispetto alle donne. In termini quantitativi, ogni 100.000 abitanti per anno abbiamo 9 casi negli uomini e circa 8 casi nelle donne. Facendo debiti conti, in Italia praticamente sono attesi più di 3.000 casi, per esattesa 3.100 casi di nuovi mielomi per anno per gli uomini e 2.700 nuovi casi per le donne. Sono cifre che fanno riflettere. Allora, sebbene so che ci troviamo di fronte ad una malattia oncologica e quindi la domanda che sto per fare non potrà avere una risposta esauriente, ma si sono individuate le cause o i fattori di rischio? Ecco, ci salviamo con la seconda domanda. Le cause, come in tutte le neoplasie, anche qui vengono attivate dagli oncogeni. Ci sono delle mutazioni genetiche, intervengono alterazioni genetiche molecolari che attivano oncogeni. Questi oncogeni all'interno delle plasmacellule determinano una maggiore malignità delle stesse, quindi una disarmonia delle plasmacellule che non rispondono più agli stimoli di feedback dell'organismo, quindi incominciano a proliferare in maniera incontrollata e danno origine al tumore. Certamente non sono soltanto le plasmacellule, ma anche altre cellule del microambiente midollare e di linfociti che intervengono soprattutto attraverso la produzione di citochine che determinano una maggiore aggressività delle plasmacellule e determinano quello che abbiamo detto prima, l'attivazione degli osteoclasti e l'inibizione degli osteoblasti. In questo modo il mieloma va avanti. Tutte queste cause possono essere innescate da altri fattori ambientali, come le radiazioni ionizzanti, alcuni derivati chimici del petrolio e del benzene e anche pesticidi. Cioè da quello che respiriamo e dall'ambiente in cui ci troviamo immersi? Come in tutte le malattie neoplastiche, l'inquinamento chimico e fisico ha una grossa parte nell'ontogenesi dei tumori in genere. E le radiazioni ionizzanti? Le radiazioni ionizzanti è stato scoperto che pazienti sottoposti a, più spesso a radiazioni, professionisti e tecnici di radiologia che lavorano con le radiazioni, all'epoca dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, oltre ad altre malattie del sangue come aplasia, le vicemie mieloide croniche, c'è stato un aumento della frequenza di mielomi multipli. Come si arriva dai primi sintomi, e vorremmo anche capire quali sono i primi campanelli d'allarme, alla diagnosi? I primi sintomi possono essere un dolore osseo inatteso, inaspettato, appunto perché è una malattia ossea, oppure un'anemia o un'infezione. Ma generalmente molto spesso il paziente fa degli esami di routine, fa degli esami di routine e entra e vede, in un esame particolare, nell'elettroforesi proteica, un picco monoclonale, un secondo picco nella zona gamma, là dove si accumulano gli anticorpi regolari, inutili, che abbiamo detto prima. Proprio dalla visualizzazione di questo picco, il paziente corre dal medico, fa degli esami di secondo step, di secondo livello, in cui questi anticorpi vengono quantificati, vengono qualificati, vengono determinati nella loro monoclonalità, e poi si fanno esami successivi per verificare lo stadio e la prognosi della malattia. Quindi sono tutti esami ematici che permettono di capire? Sono esami ematici, soprattutto, ma anche esami strumentali. Tipo? Allora, la diagnosi di mieloma sintomatico si fa attraverso l'evidenza di uno di quattro parametri che vanno sotto il nome di CRAB. CRAB è un acronimo formato da quattro lettere, che significa C come calcemia, R come rene, A come anemia, e B è un termine anglosal, sono buono, significa osso. Quindi, se c'è una ipercalcemia, proprio legata alle alterazioni osse, perché l'attività osteoclastica libera calcio, è come la calcio nel sangue, il calcio, quando aumenta, determina una sintomatologia ben determinata. L'anemia, perché le plasmacellule si moltiplicano all'interno del midollo osseo, non dando spazio per la produzione di globuli rossi, di eritropoesi, quindi c'è l'anemia. Le infezioni, perché sono anticorpi che sono inutili, che non sono anticorpi buoni per la nostra difesa immunologica. Quindi il paziente con mieloma è un paziente che ha problemi ossi, può avere problemi ossi, ha insufficienza renale molto spesso, nel 50% nel corso della malattia ha insufficienza renale, nel 10-20% può ricorrere alla dialisi, anche inizialmente, perché queste immunoglobuline si accumulano nel rene e danno insufficienza renale. Quindi ha anemia, ha maggiormente infezioni, quindi è una malattia complessa, una malattia che ha un costo sociale molto alto, una malattia che determina dei grossi problemi a livello personale, a livello familiare e anche a livello sociale, proprio perché è una malattia non soltanto che si manifesta con l'anemia o con le infezioni, ma è una malattia che dà una disabilità spesso temporanea, a volte purtroppo permanente. Ecco, una volta arrivati alla diagnosi, e quindi una volta avuta la certezza che un paziente è affetto da mieloma multiplo, esiste una terapia che permette di curare o di guarire questa malattia? La malattia attualmente, secondo le nostre conoscenze, non è una malattia guaribile, è una malattia curabile, una malattia che soprattutto negli ultimi anni ha delle lunghissime remissioni, anche di 10 anni, per cui può tornare indietro, però generalmente nella maggior parte dei casi, tranne eccezioni, di cui non sappiamo ancora perché, la malattia ritorna nel giro di 10 anni come mediana dalla diagnosi, il paziente purtroppo è distante a soccombere. E quindi per ottenere almeno il risultato della remissione, che cosa si fa? Naturalmente le terapie sono molto cambiate. Noi dobbiamo distinguere due tipologie di pazienti per la terapia. I pazienti più giovani, i pazienti che stanno bene, che possono essere sottoposti al trattamento trapiantologico, e i pazienti più anziani, che purtroppo questo trattamento non possono farlo. I pazienti che possono essere sottoposti a trattamenti trapiantologici, quindi a terapia ad alte dosi, vengono trattati per 3-4 mesi fin dalla diagnosi con delle triplette di farmaci, anche piuttosto intensivi, per ottenere una remissione parziale molto buona o una remissione completa. Successivamente vengono sottoposti a due trapianti autologhi, con le proprie cellule staminali, per cercare di determinare una lunghissima remissione, una profondissima remissione della malattia, e poi un trattamento di mantenimento, che può durare due anni o comunque fino a nuova progressione. In questo caso si hanno delle remissioni che possono essere lunghe anche 4-5 anni. Alla ripresa della malattia abbiamo nuovi farmaci, quindi si ripete una terapia con nuovi farmaci, senza però il trapianto, che va fatto soltanto in casi particolari successivamente. Adesso c'è la cosiddetta terapia continua. La terapia continua determina una costante aggressione sulle cellule neoplastiche e sembra che i pazienti abbiano delle remissioni più lunghe e sopravvivenze molto più lunghe. Per quanto riguarda i pazienti anziani, le terapie iniziali durano circa un anno. Al raggiungimento del risultato della remissione completa, i pazienti poi vengono anche qui sottoposti a mantenimento fino a nuova progressione. Dobbiamo dire che la qualità della vita, oltre che la sopravvivenza, è migliorata perché noi abbiamo dei farmaci che proteggono i pazienti dall'anemia, proteggono i pazienti dalle lesioni osse e proteggono i pazienti anche dall'insufficienza renale. Per cui è aumentata complessivamente la quantità di vita ed è aumentata la qualità della vita. A Spazio Salute stiamo parlando di mieloma multiplo con il dottor Nicola Cascavilla che è il primario dell'ematologia di casa a sollievo della sofferenza. Ma adesso vogliamo allargare un po' i nostri orizzonti perché nei giorni 8 e 9 novembre scorso presso l'auditorium padre Agostino Daniele nel complesso della chiesa di San Piero a Pietrelcina in San Giovanni Rotondo si è svolto il convegno intitolato Real World Evidence Nuovi Target Terapeutici in Ematologia organizzato proprio dal dottor Cascavilla che è con noi ospite in studio. Una nostra truppa è stata presente a questo convegno e ha intervistato il dottor Nicola Di Renzo che è il primario dell'unità di ematologia dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce che ci ha spiegato che cos'è la Real World Evidence. Sentiamo. La Real World Evidence in pratica è una metodologia che utilizza i dati della vita reale per definire dei programmi terapeutici che possono essere i più efficaci e i più aderenti nella popolazione dei pazienti che oggi noi trattiamo. Noi oggi abbiamo la prescrivibilità di alcuni farmaci, quindi l'autorizzazione all'emissione in commercio sulla base di trials clinici randomizzati, cosiddette, dove i pazienti vengono a caso inseriti in un braccio o in un altro di studi e poi si vede quale è il migliore e quello viene scelto come terapia ottimale. Solo che i trials clinici randomizzati che determinano l'autorizzazione in commercio spesso sono numericamente limitati, 300-400 pazienti, sono pazienti selezionati che hanno un tempo di osservazione mediamente breve, di 2-3 anni. Ovviamente una volta autorizzato il farmaco, il farmaco viene prescritto anche a popolazioni che non sono entrati in uno studio. Difatti nella nostra esperienza clinica solo il 15-20% dei pazienti che noi quotidianamente vediamo nei nostri ambulatori potrebbe essere arruolato in un trials clinico perché ci sono nei trials clinici criteri di inclusione e di esclusione che ne limitano l'accesso. La real world in pratica si prefigge di valutare nella vita reale dei pazienti trattati quelli che sono l'efficacia del farmaco, l'efficienza intesa come miglioramento dello stato di salute dei pazienti trattati con quel farmaco e anche di valutare nel lungo periodo eventuali effetti tossici che possono essere non stati evidenziati nel trials clinico. Dobbiamo anche dire a conclusione di questo servizio che il dottor Di Renzo ha lavorato fino a pochi anni fa, fino al 2001, presso l'ematologia di Casa Sollevo della Sofferenza quindi viene dalla stessa scuola del dottor Cascavilla. Qui chiediamo adesso come si è evoluta negli anni la terapia del mieloma perché prima ci ha detto quali sono le ultime indicazioni terapeutiche ma nel tempo questo è stato una meta raggiunta? Sì, abbiamo detto che il mieloma non è una malattia guaribile però noi aspettiamo con ansia il nuovo farmaco magico per la sua guarigione. Negli ultimi 15 anni sono stati resi disponibili dalle varie aziende almeno 11 nuovi farmaci, tutti validi, che hanno migliorato notevolmente la durata della sopravvivenza, la durata della cosiddetta remissione libera da malattia, portandola da pochi anni a circa 10 anni attualmente. Sono 11 farmaci appartenenti a 4 famiglie e tanti altri nuovi farmaci fra cui anche nuove procedure terapeutiche come le famose CAR-T che sono utilizzabili anche nel mieloma, stiamo aspettando con ansia. E questo è diciamo una tappa raggiunta ma fino a pochi anni fa diciamo che i risultati erano molto meno entusiasmanti e anche le terapie disponibili erano meno performanti, è corretto? Certo, il mieloma era una delle malattie più immalidanti che si conosceva. generalmente tutti i pazienti all'evoluzione della malattia presentavano delle gravi alterazioni osse, una grave insufficienza renale e una grave sofferenza. Era un problema, il mieloma ha rappresentato, nonostante la sua relativa frequenza, un problema sociale grave. Attualmente la ricerca si sta muovendo verso nuovi orizzonti, nuovi farmaci, nuove combinazioni di farmaci, combinazioni personalizzate di farmaci sulla base del rischio prognostico di ogni paziente perché non dobbiamo dimenticare che ogni mieloma è una malattia particolare ed ogni paziente ha una malattia particolare. Va curato, non va curato il mieloma, va curato il paziente col mieloma che ha dei fattori prognostici particolari e lui ha bisogno di una terapia ritagliata ad abito. Questo è un aspetto importante. Il secondo aspetto importante in cui la ricerca sta facendo progressi è lo studio della malattia minima residua nel mieloma. La malattia minima residua è la componente che determina la progressione dopo anni di remissione della terapia. Il fuoco che cova sotto la cenere. Perfetto, ha detto benissimo, il fuoco che cova sotto la cenere. E andare a verificare quanto è questo fuoco e a spegnerlo definitivamente significa spegnere la malattia. Terzo itinerario della ricerca biologica è una maggiore conoscenza degli oncogeni che sono alla base della malattia. Bloccare gli oncogeni come è successo in altre malattie matologiche come la leucemia acuta promiolocitica, la leucemia amiloide cronica, bloccare questi oncogeni significa bloccare la malattia. Attualmente l'iter terapeutico è meno faticoso di prima ma il paziente comunque è un paziente dopo l'iter terapeutico è un paziente provato, è un paziente che non riesce a vedere il sole della guarigione, il sereno della guarigione dopo tanta tempesta, dopo tanta pioggia che lo colpisce dalla diagnosi e per tutta la durata dell'iter terapeutico. Ma noi pensiamo che nei prossimi anni, io spero personalmente a breve questo sole possa comparire. Questa sua speranza è fondata su qualcosa di concreto. Faccio questa domanda perché prima di iniziare la nostra intervista ci diceva che è reduce da un congresso oltreoceano dove i finanziamenti per le ricerche arrivano anche da importanti istituti quali sono le assicurazioni, quindi lì si fa più ricerca. C'è qualcosa di nuovo e di positivo che ha portato con sé nel viaggio di ritorno sull'oceano? Guarda, a parte noi abbiamo parlato molto delle CAR-T ma soprattutto parte questo... Ma che sono queste CAR-T, giusto per capire? Le CAR-T è una nuova terapia cellulare che si fa con linfociti ingegnerizzati che si immunizzano contro gli antigene della malattia del paziente. I linfociti del paziente vengono prelevati, vengono trattati con un DNA particolare e poi vengono rinfusi nel paziente. E quindi questo è già... Non è un aspetto di cui tutti i pazienti possono... pochissimi pazienti, è una terapia molto costosa, centinaia di migliaia di euro per ogni terapia. Non è una terapia attualmente sostenibile per il nostro sistema sanitario, però nuove terapie sono le cosiddette immunoterapie, gli anticorpi monoclonali. Adesso disponiamo di due anticorpi monoclonali, ma a breve, se ne è parlato al Congresso Americano di Amatologia, disponeremo di nuovi anticorpi monoclonali e ho assistito ad un simposio in cui un nuovo anticorpo monoclonale determinava la remissione di una malattia praticamente resistente a sei linee di terapia e i pazienti andavano in remissione con questo nuovo anticorpo anti-BCMA. Quindi possiamo dire che per certi versi il futuro terapeutico è già presente, ma intanto si continua a studiare? Certamente, dice bene. Io penso che, come in tante altre malattie del sangue, anche nel mio loma multiplo, che, ripeto, è una malattia grave, attualmente ancora grave, però è una malattia che speriamo che nei prossimi anni possa diventare una malattia tranquilla, una malattia cosiddetta quasi bevigna. Quindi il fatto che oggi non si possa guardare all'orizzonte con la prospettiva di una completa guarigione, ma di un allungamento della vita, comunque dà la possibilità alla ricerca nel frattempo, in questi anni che si guadagnano, di fornire allo stesso paziente qualche trattamento più efficace e la speranza che si possa arrivare a qualcosa di più incisivo, di più performante e abbastanza fondata. Sì, attualmente noi abbiamo già avuto, rispetto agli anni scorsi, un significativo allungamento della supervivenza, ma quello che ci chiedono i pazienti è la qualità della vita. Loro vogliono vivere bene e soprattutto questi sono i nuovi end point che noi abbiamo in attesa della guarigione. Abbiamo tanti farmaci ancillari che sono utilizzati all'atere della chemioterapia, che adesso non è più terapia, ma terapia biologica, non è più una chemioterapia come noi eravamo abituati a riconoscere, ma una terapia biologica... Quindi con meno effetti collaterali? Molto meno effetti collaterali e molto più efficace perché ci c'è solo sulle plasmacellule e sul microambiente midollare, dove le plasmacellule trovano un papulum ottimo per la loro sopravvivenza, la loro aggressione. Per cui disporre di farmaci biologici e disporre di una terapia ancillare che ci permetta di combattere le alterazioni osse, di combattere la insufficienza renale, di combattere l'anemia, significa per il paziente vivere bene e questo è quello che a noi importa. Grazie allora al dottor Nicola Cascavilla per averci parlato del mieloma multiplo, delle possibili cause e delle terapie presenti e di quelle prospettive che si stanno aprendo attraverso la ricerca, prospettive che aprono sicuramente una porta grande alla speranza per i pazienti e per i loro parenti. Grazie anche a voi amici telespettatori per averci seguito anche oggi. Grazie a tutti.